Ciao a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con l'opening di un set incredibile, ovvero il Duel in set version Lightlord Jackman. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, è sponsorizzato da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di tutti i vostri prodotti che creano dipendenze ragazzi, da giochi di carte, Lego, Funko, fumetti, manga, maglie, prendizzate, youtuber, cioè hanno praticamente di tutto. Quindi ovviamente se volete risparmiare e avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jack Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto giapponese e coreano. Giapponese abbiamo One Piece e Yugi, coreano abbiamo solo Yugi, però hanno anche roba Bandai, le carte vecchie sempre di Yugi e gradare un po' di mix, hanno un po' di roba. In più roba spicy come Sleeve e tanta altra roba. Dateci un'occhiata, trovate tutto in descrizione. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatevi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo andiamo ad aprire. Oh finalmente apro questo prodottino che vi dico mi era rimasto dentro l'armadio per tanto tempo. Allora, si tratta di un prodotto esclusivo giapponese che è uscito rispettivamente il 23 novembre 2013 in Giappone e il 20 dicembre 2013 in Sud Corea. Sfortunatamente i due prodotti differiscono, quindi ragazzi ho solo questo, vedrete questo. Vi dico solo che nella versione coreana ci stavano due pacchetti di luce da distruzione, che sfortunatamente qua non ci sono, in più un pacchetto della Gold Series 2013. Detto questo andiamo ad aprirlo e vediamo cosa possiamo trovare all'interno perché non mi sono spoilerato niente. Partiamo con l'opening, soprattutto perché mi è arrivato anche danneggiato, quindi non potevo neanche tenerlo sealed. E vediamo, vediamo, perché dalle immagini qua davanti si prospetta molto carino, eh. Abbiamo lo Shonen Jump, abbiamo il cofanetto per tenere, i pacchetti, il tappetino, le sleeve. Capiamo un attimo, capiamo. È un coglione frafigurato a sinistra. Sì, no, nel senso, capisco che è uscito nell'era Zexal e... E che quello stronzo gioca i mostri luci, ma lui non c'entra un cazzo con i mostri Lightsworn, quindi baffanculo. Sì. Boh, forse perché in quell'epoca ci trovavamo già nell'era Zexal, era il 2013, e effettivamente questo prodotto è uscito dopo l'uscita dei Ruler, quindi grazie proprio a questo set si è potuto giocare Lightsworn Ruler post-banned, cosa che è successa da noi grazie allo Structure e da loro penso grazie a questo. Allora, uuuuh, guarda un po', guarda un po' che cazzo c'è qua dentro. Un cazzo, c'è tanta roba. Il mio pene. Sì, non credo ci sia il tuo pene qua dentro, però... La scatola è troppo piccola, hai ragione. Partiamo, secondo me, con il playmat, poi ci andiamo a vedere le varie carte e apriamo i pacchetti, almeno per fare spazio. Porca troia. Ragazzi, ma non è un tappetino piccolo, è un playmat enorme. È il play... Stavi che ti mettevano il tappetino del cazzo, come da noi? Ma questo, se non ricordo male, è il tappetino che veniva dato agli sneak peek fatti con lo Structure. Sì, esatto. Da loro invece in un box bellissimo. Questa la scritta Structure Deck di sto cazzo. Sì, e con il logo di Zexal giapponese. Molto bellino. Nazionale con questo? No, è un prodotto CG. Non lo sappiamo ancora, è da capire questa cosa. Bene, bene, bene. Il tappetino promosso, qualità classica come un qualsiasi altro tappetino, quindi va benissimo. Poi, allora, abbiamo... Togliamo qua. Questi sono i prodotti del... Non ce ne frega un cazzo dell'inquinamento. Allora, abbiamo... Questa è danneggiata. Comunque, secondo me è molto meglio del nostro vecchio Structure Deck, eh. Ma va bene. Allora, abbiamo il mazzo. Dopo lo andremo a vedere. Abbiamo il mazzo, che andremo a vedere dopo. Poi abbiamo il pacchetto promo, con... Boh, non ho capito cosa. Le sleeve, che... Boh, mettono il cazzo in testa tutti. Con Michael. Molto carine. Considerando che era il 2013, le sleeve sono fatte molto meglio di quelle di mamma, che sono di due anni fa. E l'artwork, nonostante Michael sia qui in maniera molto piccola, non sono sfocate. Guardate un po'. Ma cosa sono? Secret Platinum? Che cazzo è quel coso? Sì, sono Platinum. Oh, il vero Platinum Secret Rar fatto bene. Cazzo che bello quel Michael. Sì, proprio quello dell'epoca. Guarda un po' che bello. Quasi, quasi. Un'altra copia del prodotto si potrebbe comprare. Poi, vabbè, abbiamo lei. Lei che, tipo, la Minerva era? Quella piccolina? Minerva, sì. Sì? Guarda che bello. La Minerva ancora a CBCR quando dovevano diventare ancora l'eminente fino ad arrivare ai giorni nostri, che è una fregna pazzesca. Mamma mia, che carina. Va bene. E poi abbiamo Raider. Il mostro più forte dei Lightswar. Sì, il livello 4. Sono un po' imbarcate, ma ok. Passato del tempo, passato un po' di condizioni di temperatura, basta che metti in una camera con un'umidità dei 20 gradi e sotto e torna normale. C'entrano qualcosa, tipo i miei lanci di prima? Con l'imbarcatura no, ma con le ammaccature ai lati forse sì. No, non ci sono ammaccature. Poi abbiamo questo, che è tipo il cofanetto. Sì, il portacarte. Sì? Andiamolo ad aprire. Eh, ma c'è anche la rivista. No, non c'è la rivista. Sì. Ah, è un Daipelian. Una micro rivista? Una micro rivista. Ah sì, vabbè. Abbiamo la micro rivista. Micro guida. Sì, la guida è... Le loro guide sono fatte meglio delle nostre. Molto carine, ti spiegano un po'... Tipo questo spiega lo spoiler delle carte, ma non conosciamo il tuo paese. Sì, cosa puoi trovare dentro, tipo... Lui, loro... Dai, con il giudizio ultra. Ah, più le vecchie uscite... Cazzo, sembra di aprire i vecchi Daipelian dei vecchi team che uscirono da noi con dentro... Potenza il tuo mazzo, guarda cosa esce qui, fa spendere tua madre altri soldi. Eh sì, sa del Giappone vecchio, questo. Mamma mia. Eh, ragazzi, bisogna testare. Fa di pre-focusci, ma mamma mia, non ci credo. Poi, allora, andiamo a montare la scatolina. Pensavo non fosse di cartone, più che altro. Speravo... Tipo in plastica. Però va bene, nel senso... È un cartone. Sì, bisogna... Cioè, mi serve una laurea in ingegneria per montare sta roba. Che ti dirò, non è neanche così malvagia, eh. Prendere al tuo local di fiducia, considerando quanto costa il prodotto, secondo me hanno già messo troppa roba. Noi roba del genere non l'abbiamo mai vista neanche a 60 km di distanza. Ma va. Bene? No, le carte non sono danneggiate. Ehi, ricordati di iscriverti e lasciare like. A te questa cosa non cambia niente, ma a me dà un supporto enorme. Perché permette di far arrivare questi video a tutta la community, in modo tale da arrivare a 10k entro fine anno. Grazie mille a chi lo farà. Poi, tutti gli altri, c'hanno un po' la madre puttana, però io non mi hanno detto niente. Allora, adesso andiamo a vederci il mazzo. Abbiamo lui, che non ricordo, usciva da lcgx. Ggx. Ok, come si chiama? Usciva da rgbt, light and dragon. Ah, ok. Vabbè. Poi abbiamo... Ho il drago del giudizio ultra. Ma cosa? Il drago armato oscuro. Cazzo, il dragonite foil è fico. Sì, guarda. Loro avevano tutte queste robe foil. Jane, foil. Jane, sì. Guarda. Ma poi anche in più copie. Mamma mia, vabbè. Che stiamo a parlare? Poi abbiamo... Garot. Guarda, noi anni ci abbiamo messo per avere... Busterarità. Sta roba è di mint. No, mint no. NM, cazzo. NM. Guarda che belle. Eren. Sì. Vabbè, Lumina. Anche in più copie. Due Lumina. Ma Rico Ultra. Mamma mia. Noi... Ragazzi, ci rendiamo conto che... Questo è uscito nel 2013. Noi quest'anno abbiamo avuto un Rico che non sia super. Common da Y14. Sì, ma Common non è una bella rarità. Common da Deck. Common da Turbo Pack. C'è una rarità. Due Rico! Due, due. Poi, oh, l'onesto... No, no. Assolutamente, Konami. Questi prodotti che schifo. Non ce li importare da noi, eh. Allora, ste robe non si vendono. Facciamo un classico Structure Deck. Guarda che bello. Anche le carte più brutte, foilate così, vabbè. Poi, sì. Ci sta la merda buttata qua a caso, eh. Però bello, commerciante di carte. No, come si chiama? Mercante Magico. Mercante Magico, mamma mia. Ma che bello. Poi la foilatura che non c'è un graffio. Sta roba mi è emozione. Guarda Veiler. Sì, ma quanto è bello. Poi abbiamo lei. Troviamo della luce. Troviamo della luce. Carica solare. No, ricarica. Ricarica solare. Ricarica solare. Ricarica solare. Poi abbiamo carica, ovviamente. Tu cosa ne pensi? Che sei tipo player di Lightstorm. Che vorrei questo mazzo da noi. Sì. Beh, se fosse uscito da noi sarebbe stato meglio totalmente così. In questa realtà. Minchia, illusione gloriosa foil. Bellissima. Vabbè. Tutte c'è. Ci stanno tutte. Eh, ma quella roba si gioca. Mia, anche luce annullante. Dai. Beckoning, bello. Questa è la luce del richiamo? Sì, luce del richiamo. Beckoning, light, sì. E anche... Needle, need... Beh, bello, su. Bello. Qui erano avanti. Erano cazzo avanti. Avevano capito che questa si giocava. Da 5 euro di comune dati di GS. In Giappone... Cioè, ragazzi. In Giappone, quando fai ste robe, vendi, vendi e vendi tanto. Ma poi, ragazzi, ci rendiamo conto che io questo prodotto, quanto l'avrò pagato tra spedizione e tutto? Favamo 40 bar a 50 euro. Tra spedizione e dogana, ragazzi. Perché ovviamente l'ho importato dal Giappone. Cioè, quindi loro lo pagano ancora meno. Pazzo. Capite che un playmat, le sleeve, tutto l'hidesworm, la valigetta... E' un prodotto a 30 euro. Sì. E' un prodotto a 30 euro quando l'ha appena uscito, me lo ricordo. Adesso andiamoci ad aprire il pacchetto promo, perché... Qua cosa c'è? Se c'è te una scommessa. Necrogardna. Necrogardna. Allora, io voglio buttarla di fuori. Drago fotonico occhi galattici. Vediamo se ha senso mettere... ... quel personaggio davanti. Vediamo. Bene. Quindi mi spiegate perché mettere lui. Che senso ha? Niente, giocava l'archetipo luce, dei foton cazzo in culo e quindi mettiamo lui davanti. No, il problema è che hanno messo tutto quello che serve per strutturare un mazzo lightsworm. Bellissima rota. Buco e trappola senza fine. Non so se è un pull che può cambiare, non so sempre le stesse. Credo di sì. Però ci sta andando molto... Beh, vabbè, l'ultima è un po' ovviabile. Però tutto il resto mi sembra molto, molto buono. Bellino. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate e se proverete a tirarlo su perché effettivamente ne vale la pena. Se non ricordo male, li ha Jack Store all'interno del suo sito, quindi secondo me ne vale la pena. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.